Il piano per il riassetto idrogeologico sardo illustra 122 comuni a rischio alluvioni. La prevenzione e il costante monitoraggio dei territori a rischio dovrebbe essere un aspetto fondamentale da tenere sempre ben presente, così come la tutela ambientale. Il nubifragio che ha colpito tutta l'Ogliastra nella prima settimana di maggio ha riportato preoccupazione anche nel paese di Villa Grande Strisaili che ancora mantiene vivo il ricordo del disastro del 6 dicembre 2004. Ancora quelle strade sono ancora da sistemare, i pericoli ci sono tutti e tutte le volte che piove continueranno ad esserci perché se non facciamo i lavori a monte dove ci permetteranno di investire i soldi in maniera giusta proteggendo l'abitato, tutte le volte che piove avremo nuovi danni, nuove spese e soldi spesi male. A seguito dell'alluvione che nel 2004 ha creato innumerevoli danni nel paese di Villa Grande Strisaili, la RAS aveva stanziato circa 10 milioni di euro per mettere in sicurezza agli alvei dei fiumi. Una cifra che la società assicurativa dichiarava non sufficiente per prevenire i futuri danni sul territorio. Nonostante il finanziamento abbia trovato immediato riscontro, le opere potranno essere portate a termine non prima del 2012. Sono tanti infatti i cavilli burocratici per rendere completamente operativo un progetto che è decollato solo in parte. Da sottolineare che gli sforzi dell'amministrazione comunale non si sono limitati finora soltanto ad aspetti formali per accelerare i tempi ma ha riguardato anche un impiego di fondi per ripristinare i danni causati dalle recenti alluvioni. La cosa che mi preoccupa molto è che la Regione Sarda ha utilizzato i fondi dell'alluvione di Villa Grande del 2004 per poter cofinanziare degli altri fondi che li ha messo a disposizione il Ministero. Non vorrei che questa operazione ritardasse la spendita di questi fondi perché siamo già in ritardo di tanti anni come potete capire con le date.